Era l'ultima medaglia d'oro al valore militare dell'aeronautica. Luigi Gorrini, nome di battaglia Vespa II, è morto all'età di 97 anni. L'addio al pilota piacentino nato ad Al Seno si è svolto ieri in forma privata come sua volontà nella chiesa di Castelnuovo Fogliani. Dopo l'arruolamento nella regia aeronautica nel 1937, Gorrini prestò servizio come sergente pilota al diciottesimo gruppo del terzo stormo caccia terrestri. Fu insignito della medaglia d'oro al valore militare proprio per le attività svolte durante la seconda guerra mondiale. Con le sue imprese lascia un segno profondo nella storia dell'aviazione militare e un ricordo indelebile quale pilota di altissimo spessore, sottolinea la forza armata che con il capo di stato maggiore, il generale Pasquale Preziosa, esprime in una nota sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza ai familiari. Durante l'ultima visita al diciottesimo gruppo, Luigi Gorrini lasciò un messaggio. Bruciamo la nostra giovinezza ma obbedimmo, i nostri caduti sono testimoni della nostra fede, della nostra passione, del nostro credo. A presto gruppo, ho dato gli anni verdi della mia giovinezza che allora si viveva in un'altra dimensione. 212 combattimenti, 24 vittorie aeree individuali, 5 lanci con il paracadute, cose che rifarei per un'Italia migliore, aveva dichiarato. Luigi Gorrini, che fino alla fine ha difeso la scelta di aver combattuto anche per la RSI, da ieri riposa al cimitero di Castelnuovo Fogliani, accanto alla moglie Luisa, morta lo scorso giugno, con il quale era sposato da 60 anni.